In collaborazione con Gruppo Kramst, Centro Cinofilo Ipioppi. Bontò, ambasciatori del gusto, Gruppo Kramst. In molte parti d'Italia e alcune del mondo oggi si è svolto il One Billion Rising. Così è stato a Catorbietto e noi siamo venuti a documentarne alcuni momenti. L'Albero Giantano è un'associazione che gestisce ad Orvieto un centro antiviolenza per donne che si trovano in situazioni di violenza. Oggi è aderito alla manifestazione One Billion Rising, pure ad Orvieto, insieme a altri 250 luoghi in Italia che parteciperanno alla manifestazione. Il centro è aperto tutti i giorni, abbiamo un telefono per le donne che si trovano in situazioni di disagio. Abbiamo attivato una serie di sportelli in comune, stiamo gestendo un tavolo di contrasto alla violenza. Speriamo di coglierne buon profitto. Diciamo che il nostro corpo è sacro, spezziamo le catene, break the chain, un miliardo si solleva, spezziamo le catene. Speriamo le catene.